16 bungalow immersi nel verde, bar, ristorante, un maneggio nelle vicinanze, inaugurato a Torrioni, il villaggio ecoturistico Montenigro, il primo eco sostenibile in Campania, finanziato attraverso i fondi Fesre e POC. L'idea è quella di declinare in chiave ecologica il turismo e la promozione della cultura rurale identitaria attraverso percorsi naturalistici, impianti e strutture attrezzati ad hoc che si articolano su una superficie totale di circa 32.000 metri quadrati. Inaugurata la struttura che sarà gestita dalla cooperativa Multiservice Amica, ora viene la parte più difficile attrarre i visitatori. Per il paese chiaramente il fiore all'occello perché è una di quelle iniziative che punta al futuro, punta ai giovani, punta all'occupazione e quindi diversamente da tante opere pubbliche che pure si realizzano e abbiamo fatto sul territorio questa è quella che forse ci potrebbe dare qualche speranza in più per non vedere i nostri ragazzi andare via, almeno qualcuno di trattenerlo sul posto impegnato nella promozione del territorio e anche sotto l'aspetto diretto per l'occupazione del personale. Questo diventerà un posto per dire che c'è un altro Irpinia che pochi conoscono dove c'è del bello. Praticamente questo villaggio diventerà un posto di eventi sicuramente abbiamo fatto un gemellaggio con l'istituto alberghiero di Avellino praticamente anche la preside per diventerà dove i giovani verranno a pratichirsi, così si può dire. Sarà un posto centrale come il peritorismo religioso perché con l'associazione Amici di Padre Pio faremo dei fine settimana di preghiera e di riflessione. Poi sarà un posto di feste perché poi tutta l'estate verrà utilizzata per fare degli eventi sia nel villaggio stesso che nel paese. Credo che gli amministratori locali abbiano fatto un buon lavoro e bisognerebbe ovviamente immaginare per rilanciarlo di attrarre un turismo di nicchia perché per venire in queste zone l'elemento trainante può essere sicuramente l'eno gastronomia e poi tutti gli amanti della natura e degli animali perché vicino a questo villaggio c'è anche un campo di equitazione quindi in questa zona possono anche venire sicuramente persone che sono vicine a questo mondo.